Dopo il no del commissario giudiziale Cristiano Maria Corvi al concordato come ipotesi alternativa al fallimento di teatro e servizi, il futuro della partecipata del comune di Chieti resta ancora incerto. E dunque la società teatina, gestione pubblica, sarà di nuovo al centro del prossimo consiglio comunale, convocato in prima seduta per giovedì e in seconda per lunedì. Dalla sese civica dovrebbe uscire un'altra delibera che, perfezionando la 296 dello scorso 27 marzo, sarà oggetto di una nuova valutazione da parte di commissario e liquidatore, come spiega il Tg8 Luigi Febo, presidente del consiglio comunale. Questo no del commissario giudiziale voi come lo leggete? Come una chiusura definitiva o vedete dei margini di apertura? No, è insito nella sua relazione. Dice proprio allo Stato odierno non ci sono i presupposti perché il concordato presentato possa andare avanti secondo una sua valutazione. In quanto la delibera di consiglio che dava indirizzo la 296 su cui si è fondata il piano di concordato aveva in suo cardine in due punti fondamentali. Uno che era la proroga del servizio che attualmente scade al 31-12-2023 e quindi una proroga di 5 anni che era durata il concordato e l'altro era l'adeguamento dell'agio che degli attuali 2% passava al 3-4%. Successivamente su sollecitazione della Corte su parere negativo del piano di riequilibrio noi siamo andati in dissesto con la delibera della settimana scorsa e la luce del dissesto non essendoci il piano il bilancio preventivo del 2023 non è possibile di fatto sottoscrivere un contratto che prevede un adeguamento dell'agio. Giovedì molto abilmente ci sarà un'altra delibera sia il liquidatore che il commissario valuteranno un'altra situazione e quindi siamo sicuri che valuterà ogni singola nostra azione nel senso positivo. La nuova delibera dovrà tener conto del dissesto dell'ente e prevedere l'avvio della procedura della trasformazione della società da pubblico a pubblico privato con la cessione del 49% delle quote ai privati e l'affidamento del servizio per gli anni del concordato. Riteniamo che con questa delibera il liquidatore può essere messo in condizioni di valutare la possibilità di modificare e correggere il piano concordatario. Si parla però di soluzioni che arrivano fuori tempo massimo con l'opposizione che chiede le dimissioni di sindaco e giunta. Per me sono rimandati al mittende perché un'opposizione che non partecipa alle sedute che in maniera sistematica quando ci sono delle deliberi importanti per l'ente non prende una posizione né a favore né contro, abbandono l'aula e addirittura non partecipano all'HP gruppo io credo che non hanno nessun titolo per dire quello che sostengono.